Una violenta bufera di acqua e vento si è scagliata ieri sera tra le province di Palermo e Agrigento, sulla strada statale 624 nei pressi di Sciacca, causando danni e ribaltamento di un bus catapultato fuori il guardarail, fortunatamente senza incidenti gravi e lesioni alle persone. Erano le 19.30 quando la violenta bomba d'acqua, fango e fortissimo vento ha scaraventato il bus pieno di ragazzi che dalla località di Sciacca si spostano verso Palermo fuori strada, completamente rovesciato. Una scena terribile, hanno detto i testimoni arrivati sul posto. Una situazione drammatica, come hanno affermato alcuni tre presenti, dopo che il bus della linea Sais è uscito fuori strada. Fortunatamente nessun ferito grave, ma solo tanto, tanto sparpento. Molti dei ragazzi hanno chiamato i genitori per informarli sull'accaduto e sono scattati immediatamente i soccorsi. Sono arrivati sul posto ambulanze, i vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno cercato di riportare la calma e la serenità nonostante gravissimi danni alle campagne e paesi vicini assaliti dalla bomba d'acqua e da una tromba d'aria violenta. Il maltempo ha provocato danni a legamenti a Corleone, Contesse Santellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggio Reale. Decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimenti terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Il maltempo si è abbattuto anche su Trapene. La città è stata aggredita da una bufera d'acqua e vento. L'acqua ha invaso alcuni scantinati ed esercizi commerciali. Molte delle strade sono impraticabili, diverse auto sono rimaste bloccate. La Palermo Sciacca è impraticabile, così come ha dichiarato Leo Ciaccio, sindaco di Sambuca, invasa da un fiume d'acqua e vento. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. È ancora presto per fare una conta dei danni, ma delle immagini e dei video ammatoriali i danni sono veramente ingenti.